Cristalli! Ma certo! Ma dottor Cortex, per raggiungere la massima potenza non basta il suo cristallo! Ci servono i 25 cristalli normali sparsi sulla superficie, ma come faremo a raccoglierli? Non abbiamo più agenti sulla terra! Posso! Pensi che non sia al corrente della situazione? Se non abbiamo più alleati sulla superficie dovremmo trovare un nemico! Crash! 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 La mia batteria è andata! Renditi utile e portamene una nuova, fratellone! Questa è una nuova, fratellone! Questa è una nuova, fratellone! Questa è una nuova! Questa è la nuova! Bene, 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 Crash Bandicoot, benvenuto, mi scuso per il rozzo trattamento che ti è stato riservato, ma temevo che un invito scritto non sarebbe bastato, mi serve il tuo aiuto, intorno a te ci sono cinque porte, ciascuna nasconde un cristallo, simile a questo, portami cristalli, Crash, per ora è tutto, ci rivedremo presto. A presto, a presto. A presto, a presto. A presto, a presto. 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 Ben fatto Crush, sapevo di potermi fidare, ora apri le orecchie, questi ologrammi non durano molto, durante le mie ricerche ho scoperto una forza sconosciuta che minaccia il nostro mondo, solo i cristalli possono contenerla, c'è in gioco il futuro del mondo, devi assolutamente trovarli e portarli Crush, mi senti? Crush? Crush? Ci sei Crush? Crush, mi senti?